Canonica Canonica Avila Borghese Avila Borghese Avila Borghese B O R G H E S E Andiamo Buongiorno Siamo ad entrare? Sì sì credo Ha detto che non puoi tocare niente Sì sì Grazie. Napolione. Guarda papà. Grazie. 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 Eccola mamma. Grazie. 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 si chiama Guido Furigno si chiama Guido Furigno si chiama Guido Furigno siama Guido Furigno siama Guido siama Guido siama Guido siama Guido siama Guido siama Guido siama Guido